in prima serata su canale 5 la quarta puntata dell'isola dei famosi il reality condotto da alessia marcuzzi chi uscirà tra alessia cecilia e simone in attesa di scoprire chi dovrà abbandonare l'isola i naufraghi si cimentano con una nuova prova di compensa con impaglio un pollo arrosto la prova però prevede il sacrificio di due naufraghi elenaia maurice che non possono mangiare alessia saluta tutti a cominciare dai suoi compagni d'avventura mara venia e daniele bossari annuncia che ci sarà un messaggio di francesco monte che ha deciso di dire la sua dopo i fatti degli ultimi giorni legati alla presunta canna ma che non sarà in studio e la volta del medium craig che ha avuto due piccoli incidenti e deve stare a riposo non può dormire sulla sabbia e quindi è costretto a lasciare il gioco alessia e compagni lo salutano calorosamente prima che il concorrente abbandoni per sempre la palapa sono state molte le discussioni in questa terza settimana si parte da alcune esternazioni di rosa che non gradisce troppo i comportamenti da mamma di alessia la ragazza cerca di spiegare a cosa si riferisse la frase mostrata nella clip e cecilia ne approfitta per intervenire nel discorso sono mamma e mi manca mia figlia ma sono qui anche per lei non è che le mamme non possono lavorare dice la capriotti solo chi è mamma può capire conclude la mancini